Piano Nazionale di Riprese e Resilienza approvate le mozioni presentate da PD e Lega. Gli atti di indirizzo emendati nel corso del dibattito impegnano la Giunta regionale a coinvolgere il Consiglio nel processo delle decisioni. Da lunedì 28 giugno stop all'obbligo delle mascherine all'aperto dopo il Via Libera da parte del Comitato Tecnico Scientifico. Le posizioni dei consiglieri. L'Aula del Consiglio regionale ha approvato a larga maggioranza nella seduta di mercoledì 23 giugno la mozione del PD, primo firmatario, il capogruppo Vincenzo Ceccarelli per la costituzione di un tavolo consultivo permanente composto da esperti qualificati e studiosi sull'attuazione del Piano Nazionale di Riprese e Resilienza. Decisivo per la votazione da parte di Italia Viva, Fratelli d'Italia e Lega, l'emendamento inserito all'ultimo punto che impegna il Presidente e la Giunta a fare in modo che il tavolo riferisca alle commissioni competenti e al Consiglio sugli stati di avanzamento di rilaborazione riguardo alle proposte della Toscana del PNRR. Noi abbiamo presentato questa mozione chiedendo che venga costituito presso la Giunta un gruppo di alto profilo anche scientifico in grado di supportare quella che sarà l'azione dell'unità di missione del gruppo di coordinamento che avevamo chiesto essere realizzato già con una mozione dell'otto di giugno. Questo perché il PNRR sarà una grande opportunità per la Toscana e a questo si affiancheranno anche le risorse della programmazione ordinaria del 2021-2027. Quindi occorre che di fronte a queste opportunità la Toscana sia coesa, sia unita, sia coordinata nel presentare una proposta che sia coerente con le missioni che indica l'Europa quindi quella della transizione verso un'economia più ecologica del superamento delle differenze tra territori e tra genere di uno sviluppo sostenibile di una maggiore coesione sociale. Per far questo occorre che la Regione svolga una cabina di regia importante nei confronti dei territori di quella che sarà la capacità progettuale dei comuni, delle province i suggerimenti che verranno dalle imprese e crediamo che se ci sarà un board di alto profilo in grado anche di dare suggerimenti rispetto alla coerenza e alle priorità per raggiungere questi obiettivi noi riusciremo meglio a cogliere queste opportunità di queste risorse che arriveranno e che sono fondamentali. Sì, è una discussione importante e a me fa piacere che l'Aula abbia accolto la proposta che ho sottoposto alle altre forze politiche perché ovviamente la progettualità possa nascere dal basso possa essere un progetto e progetti diciamo condivisi da soggetti pubblici e privati ma una coprogettualità che faccia partecipi alla Regione Toscana delle esigenze dei territori al cospetto anche ovviamente di una politica nazionale che sarà quella che poi alla fine definirà le progettualità finale tempi ed esecuzioni quindi una discussione che entra nel merito ma la notizia importante è che oggi l'Italia ha approvato il proprio progetto questo non era scontato se solamente tre mesi fa avessimo avuto un altro governo il cambio di governo il Presidente Draghi ha dato l'opportunità all'Italia di essere autorevole noi abbiamo 190 miliardi da gestire nei prossimi anni e questo è anche merito ovviamente del Presidente Draghi ma in particolar modo anche l'Italia Viva che con l'operazione politica che ha attuato inizialmente magari non compresa oggi rende tutto questo possibile è stata una discussione molto positiva io credo che oggi abbiamo dimostrato sia la maggioranza ma anche l'opposizione di poter lavorare veramente nell'interesse dei Toscani io lo definisco un piccolo capolavoro perché siamo riusciti a trovare la sintesi su un atto fondamentale per noi ovvero quello della necessità di mettere in piedi finalmente quella cabina di regia quell'unità di coordinamento che da troppo tempo attendiamo ieri il nostro Presidente del Consiglio Draghi ha incontrato la Presidente Vordelajen siamo davvero nell'imminenza di una sfida storica che deve però vedere anche la Regione Toscana preparata ora toccherà alla Giunta dare attuazione subito immediatamente a quelli che sono degli indirizzi chiari del Consiglio il Consiglio certamente rivendica il suo ruolo di stimolo e anche di informazione perché sarà essenziale puntare su un coordinamento in questo momento proprio tra Giunta, Consiglio ma soprattutto il coinvolgimento degli enti locali e di tutte quelle associazioni di tutte quelle professionalità che possono essere di supporto in un momento cruciale per questa Regione dove queste risorse quelle che arriveranno e che saranno incanalate nei bandi dovranno essere spese bene spese in modo efficace affinché appunto questa sfida storica possa essere portata a Terni davvero in modo positivo per tutti quanti noi Una discussione sul PNRR che ci trova soddisfatti ci trova soddisfatti perché il Consiglio regionale ha recepito quella che è stata la richiesta di Fratelli d'Italia Fratelli d'Italia fin da subito ha denunciato un'anomalia in quello che veniva chiesto oggi sia la maggioranza sia la minoranza chiedevano l'apertura di un nuovo tavolo di confronto sulla gestione dei fondi che arriveranno in Regione Toscana la creazione di una cabina di regia per decidere su come spendere questi soldi mancava a nostro modo di vedere il coinvolgimento del Consiglio regionale noi abbiamo chiesto a gran voce che venisse coinvolta abbiamo presentato gli emendamenti che sono stati recepiti e il fatto che la maggioranza abbia recepito le indicazioni di Fratelli d'Italia fa presagire che ci sia la volontà di quantomeno ci sia una volontà di dialogo questo perché noi rivendichiamo il ruolo della politica in Toscana stanno per arrivare tantissimi soldi 760 miliardi di euro oltre la metà andranno restituiti quindi sulle spalle nostre che siamo i rappresentanti dei cittadini i cittadini hanno eletto noi per stare a rappresentarli in consiglio regionale vi è una responsabilità tale da impegnare non noi ma tre generazioni dopo la nostra quindi la politica non può deve utilizzare i tecnici ci mancherebbe altro ma non può abdicare ai tecnici non può dire nominiamo la cabina di regia nominiamo il tavolo e che siano altri a decidere come si spendono questi soldi noi siamo stati eletti per rappresentare i cittadini e noi dobbiamo assumerci responsabilità di come spenderemo questi soldi intervenuto nella seduta di mercoledì 23 giugno anche il governatore Eugenio Giani che ha evidenziato le priorità per il piano relative alla Toscana l'importante è l'anticipazione dei 25 miliardi la possibilità quindi di vedere partire subito progetti che chiaramente i primi sono quelli a cui ha dato a livello di priorità il governo e sarà un po' il governo a scegliere spesso viene considerato il PNR come qualcosa da dividere per 20 regioni nulla di più sbagliato l'approccio con cui l'autorevolezza del Presidente Draghi si è rivolto all'Europa è l'autorevolezza di un capo di Stato che naturalmente avrà tutta l'applicazione nell'indirizzare per il meglio quello che sarà già la prima anticipazione e quindi i primi progetti quindi va vissuto in chiave nazionale e in chiave nazionale l'importante è che la Presidenza del Consiglio scelga subito i progetti giusti per essere credibili con l'Europa e questo significa progetti cantierabili da subito perché siano completati entro il 2026 poi di riflesso ogni regione avrà il suo vantaggio perché è un volano che fa ripartire l'economia e noi siamo lì pronti e attenti naturalmente nel contesto di questo indirizzo nazionale che è prerogativa del capo di governo e su cui è impostato il rapporto con l'Europa attraverso il PNR Un passo verso la normalità da lunedì 28 giugno stop all'obbligo delle mascherine all'aperto dopo il via Ribera arrivato da parte del comitato tecnico scientifico resta comunque l'obbligo sui mezzi pubblici e nei luoghi affollati devo dire che mi sembra una cosa ragionevole ringrazio il Ministro Speranza il Ministro Speranza sarà a Firenze proprio lunedì quindi avremo modo di discutere con lui sarà a Firenze e sarà a Prato perché io voglio fargli inaugurare ormai una parola diciamo eccessiva perché hanno svolto una grande funzione però io gli voglio far vedere quegli interventi che abbiamo fatto i due padiglioni nuovi all'ospedale di Prato e la trasformazione del Creaf per le vaccinazioni e per quello che è l'attività covid di cura intermedia e che sono il frutto del lavoro che abbiamo fatto a ottobre novembre che ancora lui non aveva potuto vedere io ritengo sia stato molto ragionevole il fatto di arrivare a questa disposizione sulle mascherine e ritengo anche che sia molto importante che la Toscana in questi giorni riscontri sempre un chiaro abbattimento del numero dei contagi ormai questa settimana probabilmente arriveremo a meno 500 contagi in una settimana e sembrano lontani i tempi quando nella seconda ondata arrivavamo in un giorno addirittura a 2.700 contagi quando in una settimana ripeto oggi superiamo di poco i 500 e siamo arrivati anche a 16.000 contagi in una settimana e insomma a quei tempi non ci dobbiamo più arrivare quindi è importante continuare la campagna di vaccinazione e ringrazio il generale Figliolo che ieri dopo diciamo così le perplessità che avevo manifestato nei giorni scorsi mi ha telefonato per dirmi che dal fondo di riserva che ha il governo a livello nazionale ci consegna nei prossimi giorni altri 15.000 Pfizer mi pare una svolta importante che ovviamente sta nel solco della forte riduzione dei contagi che c'è stata nel nostro paese nella nostra regione ma in tutto il paese che ha un riflesso importante sui ricoveri come vediamo ormai da settimane stanno riducendosi in maniera significativa e quindi è un elemento importante nel ritorno a una normalità che ovviamente deve essere sempre presa con grande attenzione perché l'anno scorso abbiamo imparato come a fronte di un calo importante poi ci può essere se non monitorato con attenzione un ritorno all'epidemia nella fase finale dell'estate quindi mi pare comunque che sia un messaggio importante anche per tutti i cittadini per tutti gli operatori economici che vanno nella direzione di riacquisire una normalità che dobbiamo lavorare perché non si perda neanche a partire dalle fine dell'estate prossima di quest'estate e su questo è importante raggiungere l'obiettivo della vaccinazione di tutti i toscani entro la fine di settembre un obiettivo che nonostante alcune difficoltà nella fornitura dei vaccini comunque penso sia assolutamente raggiungibile lo avevamo chiesto da tempo anche nella discussione in aula soprattutto nel rispetto dei ragazzi dei giovani che vogliono riappropriarsi degli spazi liberi del divertimento del luogo nell'ambito del quale creare relazioni bisogna stare all'aperto si può stare all'aperto la scienza ci dimostra che in questo periodo è veramente difficile contrarre il virus e quindi è opportuno che si torni anche a una relazione normale ancora ci saranno delle restrizioni al chiuso ma è importante questo è un primo segnale di normalità una battaglia non soltanto politica ovviamente è scientifica nel frattempo devono continuare le vaccinazioni e deve continuare la sperimentazione per il farmaco perché solamente con questi due obiettivi torneremo poi a una vita normale reale quella che io mi auguro possa essere poi da settembre sicuramente è un tentativo di riportare la popolazione piano piano gradualmente alla normalità è importante però che questa normalità avvenga appunto per gradi in quanto quando voi sentite dire per esempio il vaccino X è sicuro al 90% di immunizzazione l'80% il 60% è rispetto a chi non è immunizzato a parità di presidi di difesa quindi noi dal prossimo lunedì avremo delle difese in meno quindi dovremo mantenere sicuramente un discorso sulla distanza sociale sull'utilizzo dei gel disinfettanti ancora con maggiore attenzione questo ve lo dico da medico ma credo che sia anche di buon senso lo dico fin dall'inizio della pandemia gli italiani sono stati bravissimi ad adeguarsi a tutte le norme a rispettare tutte le norme ve ne sono alcune che nessuno ha capito sono stati bravi anche a rispettare quelle che non avevano una raziologica alla propria base io penso a quel periodo in cui folle in cui alle 18 la sera si cessava la somministrazione anche da asporto delle bevande ma si continuavano a dare da asporto i cibi cioè tu andavi alla pizzeria potevi portare a casa il pezzo di pizza ma non potevi prendere la lattina la mascherina all'aperto in luoghi senza assembramenti ha un po' quella razza io mi chiedo ancora oggi che è obbligo perché fino a lunedì è obbligatorio indossarla anche negli spazi aperti in assenza di assembramenti quale sia la logica perché a una persona alla quale chiediamo giustamente sacrifici da oltre 18 mesi per contrastare questa pandemia perché a questa persona dobbiamo chiedere di indossare un dispositivo che specie con l'arrivo dell'estate non è la cosa più piacevole del mondo e di doverla indossare anche all'aria aperta dove non c'è nessuno finalmente è un momento che aspettavamo da tempo perché oltre a essere diciamo anche una liberazione perché dato anche il caldo affoso che in questi giorni è arrivato anche in Toscana è sicuramente un segno tangibile di un ritorno alla normalità per tutti quanti e quindi viene salutato sicuramente anche psicologicamente con molto sollievo dobbiamo però continuare a raccomandare di mantenere le precauzioni che abbiamo tenuto finora per far sì che questa diciamo questa rimozione delle mascherine possa restare tale la disinfezione delle mani tenere la distanza evitare gli assembramenti tutti quei comportamenti di buonsenso che farà sì che questa estate possa essere vissuta anche con maggior sollievo rispetto a quella dell'anno scorso e rispetto ai mesi che abbiamo precedentemente diciamo attraversato Grazie a tutti